E' qui con noi Barbara Valdacci, direttore vendite e marketing del Boscolo, della catena Boscolo, Boscolo Hotel Milano, che ci racconterà appunto nello specifico della struttura in corso Matteotti. Sì, questa struttura è sicuramente un albergo veramente innovativo, creato nel 2009, aperto come punto di riferimento della città di Milano, in quanto non vuole essere semplicemente un hotel 5 stelle, ma anche un punto di incontro, non solo per gli ospiti, ma anche per i milanesi. Notevole è la struttura di impatto disegnata da un famosissimo architetto come Italo Rota, Questa era un'ex banca, quindi è diventato un hotel 5 stelle di design non convenzionale, dove spesso vengono ospitate mostre di artisti emergenti. Inoltre abbiamo una terrazza con vista spettacolare sul Duomo, di conseguenza è veramente un unico mondo racchiuso in 154 camere dal design assolutamente non convenzionale e con la possibilità di poter vivere all'interno di questo albergo un'atmosfera internazionale. Inoltre possiede una spa con piscina interna disegnata da un famosissimo architetto come Simone Micheli, è una delle spa più fotografate sulle riviste di design delle spa di tutto il mondo, di conseguenza è veramente un unico luogo che coniuga l'ospitalità italiana ad un senso di esperienza, quindi qui qualsiasi persona, non solo il turista ma anche il milanese che vuole venire e trascorrere delle ore può avere un'esperienza davvero unica ed esclusiva in un contesto milanese, senza spostarsi da casa.